La presa del potere è il tema del nuovo ciclo delle lezioni di storia che da domenica 7 marzo e fino al 30 giugno si potranno vedere in streaming sulla piattaforma dell'auditorium di Roma www.auditoriumplus.com. Il tema sarà declinato attraverso 10 lezioni da 10 grandi storici, da 10 diversi teatri. Comincerà il 7 marzo Laura Pepe con la presa del potere di Zeus nell'Olimpo. La prima visione, che sarà alle ore 18 di domenica 7 marzo, comporterà il fatto che poi dopo l'autrice sarà disponibile nella chat a dialogare con Paolo Di Paolo e a rispondere alle domande del pubblico. E così ogni volta nella prima visione, salvo il fatto che poi le lezioni si potranno sempre rivedere in qualunque momento in streaming fino al 30 giugno. Poi ci sarà Andrea Carandini che parlerà di Agrippina dall'auditorium, Alessandro Barbero che parlerà di Guelfi Ghibellini dal Teatro Reggio di Torino, Vanoli, Alessandro parlerà di Maometto e la presa di Costantinopoli dal Teatro Grande di Brescia, Mascilli Migliorini cortes contro Montezuma dal Bellini, Canfora sulla rivoluzione di Giacobini dal Petruzzelli a Bari, Banti sulla Repubblica Romana dal Teatro Verdi di Firenze, Guido Samarani sulla Lunga Marcia, la presa del potere comunista a Mao da Padova, Marcello Emiliani sul colpo di Stato di Nasser da Bologna, l'Arena del Sole e infine Lori Zanatta sulla presa del potere della rivoluzione cubana dal Teatro Storchi di Modena. Qual è la caratteristica che abbiamo pensato in casa editrice che non potendo riempire i teatri col pubblico, sapete che queste lezioni di storia vanno avanti da 15 anni con grandissimo successo non solo a Roma ma anche a Milano, a Torino, a Firenze, a Bari, a Napoli. Visto la situazione che in questo momento purtroppo vede i teatri chiusi abbiamo chiesto ai teatri di riaprirsi per noi e quindi abbiamo pensato a una regia, a un montaggio con un effetto come dire di vivacità con possibilità di montare molte immagini e quindi credo, spero, siano delle lezioni anche molto godibili seppure ciascuno per conto suo dallo schermo e da remoto come si dice e abbiamo fatto questo esperimento di mettere insieme 10 teatri, di collegarli restituendo la ricchezza del teatro, abbiamo chiesto ai direttori di teatri di dirci due parole sul teatro, li vedremo, sono teatri meravigliosi, sperando che presto possano rieprire. Quindi buona visione a partire dal 7 marzo sulla piattaforma dell'auditorium www.auditoriumplus.com e poi di seguito in streaming fino al 30 giugno sempre visibili sulla piattaforma dell'auditorium. Quindi buona visione a tutti e speriamo di continuare con il successo che ha avuto in questi anni la formula delle lezioni di storia.